Aveva lottato con altri esemplari della sua specie, forse addirittura con i suoi genitori, che la consideravano ormai svezzata e in grado di prendere il volo per cercare un proprio areale in cui vivere. La lotta l'aveva vista soccombere, era caduta a terra e non riusciva più a prendere il volo. Quando è stata recuperata da un agente faunistico ambientale della città metropolitana di Torino il 13 aprile in Valturas, nel territorio del comune di Cesana Torinese, l'aquila areale femmina, poi battezzata Elisabetta, era priva di forze. Presentava una profonda lacerazione della pelle intorno al becco e una lesione all'articolazione dell'ala. Una volta curata e riabilitata, l'aquila è stata liberata nella zona pascoliva a monte del santuario di Santa Elisabetta, nel territorio del comune canavesano di Collerretto Castelnuovo. Questo soggetto è arrivato da noi il 13 di aprile e l'anamnesi racconta che aveva lottato con delle altre aquile, probabilmente un giovane che veniva scacciato dai genitori in quanto diventato troppo adulto per mantenere lo stesso areale e a seguito di questa lotta era caduta al suolo, per cui le lesioni riportate erano legate a questa caduta con delle ferite attorno al becco e una lesione a livello dell'articolazione dell'ala con una cisti con del liquido di provenienza sinoviale, quindi dall'articolazione stessa. Inizialmente l'animale è stato stabilizzato e sottoposto a radiografie per verificare che non avesse delle fratture. È stato alimentato forzatamente inizialmente in quanto non mangiava, quando si è un po' ripreso, chirurgicamente abbiamo risolto il problema di questa cista articolare e quando le ferite dell'intervento sono guarite abbiamo provveduto alla riabilitazione al volo, quindi con ginnastica prima passiva e poi attiva in tunnel. Quando abbiamo verificato la sua capacità a sollevarsi adeguatamente dal suolo per quanto consentano i nostri tunnel di allenamento, abbiamo deciso che era il suo momento di tornare in libertà. Quanto è delicato il momento della liberazione, del ritorno alla vita in natura? È molto delicato questo momento in quanto l'animale arriva in un territorio che non sempre è il suo e soprattutto arriva dopo un viaggio che a volte è anche di un paio d'ore perché bisogna metterli in un ambiente idoneo. Bisogna cercare un ambiente dove non ci siano troppi animali dello stesso tipo, soprattutto animali con areali ampi e combattivi come sono appunto le aquile, per evitare che entrando nel territorio di un consimile l'animale immesso debba lottare come fosse un animale che esce dall'ospedale, cioè una persona che esce dall'ospedale e quindi non è in piena forma. Per quanto noi facciamo fare ginnastica è pur sempre un animale che arriva da un'ospedalizzazione. Quindi è una fase molto molto delicata che deve essere fatta in ambiente adeguato e anche l'ambiente umano attorno deve essere opportunamente addestrato a non creare rumori, a non creare spaventi in modo tale che sia più dolce e positivo in senso di successo la sua fare in missione. Il nostro compito è di monitorare appunto la zona del rilascio per vedere che, anzi per non vedere più l'animale perché la cosa giusta è non vederlo più, perché se lo ritroviamo lì probabilmente ci sono dei problemi. Normalmente gli animali rilasciati in una zona poi cercano una zona che sia di loro gradimento, un habitat che corrisponde alle loro caratteristiche. Quindi il nostro compito è di vedere che non sia in difficoltà, quindi di non ritrovare l'animale magari il giorno dopo nello stesso posto. Abbiamo praticamente quotidianamente a che fare con persone che esercitano l'attività venatoria, nonché la fiscatoria. Ce la mettiamo tutta e cerchiamo di riuscire a seguire la situazione e a monitorarla con le nostre forze. Per quanto riguarda invece il recupero degli animali salvatici, come diceva prima la dottoressa del cancio, c'è questa abitudine dei cittadini di raccogliere questi animali quando invece la cosa migliore sarebbe non toccarli, anche perché poi vengono toccandoli, gli lasciamo degli odori, delle cose, oltretutto i genitori non riescono più a recuperarli. Quindi insomma il nostro è un campo a 360 gradi, non va solo sulla vigilanza, puramente sulla caccia ma anche sull'educazione delle persone e comportarsi in un certo modo e cosa fare a volte quando si imbattono appunto in questi salvatici sia nelle proprie abitazioni sia anche nelle aree dove magari vanno per divertimento passeggiare.